Un grave lutto ha colpito la parrocchia di Renazzo. Martedì mattina è deceduto infatti il parroco canonico Ivo Cevenini, che era arciprete di questa importante frazione di Cento, dal 1974. Don Ivo aveva 86 anni, era ricoverato presso la casa di cura Toniolo. Ordinato sacerdote dal cardinale Giacomo Lercaro nel 1954, Don Ivo prestò servizio a Grizzana Morandi e Tavernola, presso il preseminario di Borgo Capanne e poi a Granaglione e nel liceo di Porretta. Nel 1974 la nomina a Renazzo e nell'82 fu nominato canonico della collegiata di Cento. Tra gli altri incarichi ha collaborato con l'ufficio amministrativo diocesano e ha più volte ricoperto l'ufficio di vicario pastorale. La sua parrocchia è stata duramente colpita dal terremoto del 2012 e per le immediate necessità della vivace comunità ha voluto la costruzione di una chiesa provvisoria. Il sindaco di Cento ha proclamato il lutto cittadino.